Vi siamo! Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti! Lo so, lo so, sono arrivato un po' tardi ma mi farò perdonare perché vi stavo già registrando la prima puntata del nostro corso di DeFi per principianti che, giusto nel caso non ve lo ricordaste, arriva giovedì. Quindi guai a voi chi giovedì non è qui sul pezzo alle ore 19 a vedere la prima puntata del nostro corso gratuito di DeFi. Lo scopo di questo corso sarà il portarvi alla pari con il livello che bisogna avere per riuscire a rimanere sul pezzo al 100% durante queste live e durante le nuove scoperte, i nuovi protocolli, insomma tutto quello che andiamo a vedere di volta in volta senza per ovvi motivi andare a ripartire dalle basi perché altrimenti facciamo ogni volta notte. Quindi mi raccomando sul pezzo sarà tutto gratuito con le slide scaricabili, sarà qua su YouTube, iscrivetevi mi raccomando, ho visto che un sacco di voi mi segue ma non si è iscritto, ragazzi iscrivetevi così non vi perdete niente, siete stra sul pezzo, non vi costa nulla, è a gratis come si suol dire. Ebbene quindi oggi come al solito ci ritroviamo in live invece per fare due chiacchiere su quello che succede sul mercato, ogni tanto c'è qualcuno nuovo quindi benvenuti a tutti i nuovi, leggo la mia prima diretta, prima volta in diretta, di solito ti seguo in differita, bravi seguitemi in diretta perché è più bello secondo me, dai potete farmi le domande, possiamo interagire e insomma c'è più come dire è più bidirezionale, non è il mio solito spiegone. Come al solito oggi andiamo a vedere la situazione di Bitcoin, la situazione del mercato, andiamo a vedere un po' le notizie più interessanti degli ultimi giorni e ci aggiorniamo, ascolto le vostre domande eccetera 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 eccetera. Quindi iniziamo subito, lo so che volete parlare di Romdau, lo so maledetti farmatori folli, ci arriviamo, ci arriviamo. Una cosa alla volta, adesso volevo vedere, allora, 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 tac, partiamo dalla situazione Bitcoin, la situazione grafico che, come dire, gasa, eh? Devo dire la verità, se stamattina non ero ancora molto convinto perché, insomma, se vedete il dump che c'è stato qualche giorno fa, giusto prima del weekend, è stato molto forte, ci mantiene in una struttura di breve che è questa con lower highs e lower lows e quindi ho detto, ok, sì, abbiamo rimbalzato proprio sopra, vedete, alla zona di domanda che è la prossima, quindi la zona 52.500 ed intorni, ci abbiamo rimbalzato sopra, tuttavia, volumi un po' sottotono, weekend, il dump che comunque ha una candela rossa ancora più ampia e quindi ho detto, vabbè, aspettiamo a cantare vittoria. Poi giusto prima di iniziare questa live, guardo WhatsApp, vedo un messaggio di un amico, grande Maurizio, a proposito se mi stai guardando, che mi fa, oggi te lo vedi il pump in diretta. Speriamo, incrociamo le dita, speriamo che porti bene e per adesso, ripeto, siamo ancora all'interno di questa candela damposa e quindi, insomma, non è ancora il momento di cantare vittoria, però c'è domanda e questo già è una cosa positiva. La resistenza principale che ci ostacola dal ritornare bullish un po' su tutti i time frame, perché sul macro siamo ancora bullish, vi ricordo, questo è un ritracciamento comunque sul breve, è la resistenza 60.500. Se andiamo a riprenderci 60.500, vedete, facciamo un bel costrutto di bottom anche qui, ritorniamo bullish sul breve, siamo bullish sul medio-lungo, tombola ragazzi, siamo al top, saremo veramente al 100% e quindi stiamo a vedere, stiamo ad aspettare. Fino ad allora, ripeto, non canto vittoria, non voglio troppa FOMO ingiustificata, c'è il rischio poi di eccesso di FOMO, multa per eccesso di FOMO. Adesso iniziamo immediatamente con le notizie a partire da, tadà, il nostro mitico Michael Saylor che se da una parte abbiamo l'invasione dei bananari, ogni giorno c'è qualche nuovo bananaro che arriva e inizia a parlare di cripto e questi per me sono top signal, lo dico sorridendo perché ovviamente sono, come dire, è ironia, ok? È pura ironia, però dall'altra parte abbiamo il nostro Saylor che è il nostro, come dire, il nostro santo protettore dai dump che ogni qualvolta il mercato dump arriva lui e mette il suo cipino di 7.002 Bitcoin. Ha detto, ma sì, facciamo, allora quanti milioncini abbiamo? 414,4. Bene, quanti Bitcoin ci stanno dentro? 7.002, vai, comprali tutti, bam, e se li è intascati continua il suo million cost averaging e adesso ha 121.044 Bitcoin, impressionante. Prezzo medio di 30.000, il suo prezzo medio di carico, quindi direi che quello fa un po' da supporto e anche oggi il cipino l'abbiamo messo, tac, così. Bravo Michael, poi cos'altro abbiamo di interessante? Ok, allora, Cyber Monday, Black Friday, ci sono un po' di promo interessanti, io ve le ho condivise tutte, vi ho condiviso la situazione di, come si chiama, Trading View, c'era un'offerta pazzesca, c'è ancora, tra l'altro. Oggi ce n'è una nuova del Cyber Monday che è una figata, Unstoppable Domains, non so se ce l'avete presente, sono domini NFT, quindi tipo non proprio come gli ENS, sono un po' diversi, sono un po' più completi come funzionalità. In Unstoppable Domains ci si può andare a costruire dei siti web, li si può legare ai propri wallet, li si può dare quindi come metodo di pagamento e in futuro puntano a diventare un sistema unico di login. È stato molto interessante questo, mi ero informato perché adesso voglio acquistare assolutamente i miei, che sono fortunatamente protetti, quindi non provate a scuottarmeli perché non ce la farete, me li prenderò tutti assolutamente. A proposito di scuottare, so che c'è chi ha fatto veramente un pacco di soldi scuottando i domini di Unstoppable, ma insomma non è la pratica migliore, dai, non è bello, non è etico forse neanche, ma al di là di questo per uso personale sono molto comodi perché sono appena sbarcati su Polygon, tra l'altro, quindi ci sono praticamente zero fee di mining e di gestione. Chiaramente il costa, cioè il dominio costa, se voglio cercare non lo so cosa potrei cercare, dunque cerchiamo Michael Sailor, vediamo se c'è, probabilmente ha protetto anche quello e ovviamente sono protetti, no però scherzi a parte vedete un dominio tipo costa 100 dollari, quelli simili, e poi ci sono quelli premium che costano molto di più, che ne so i nomi, Mike probabilmente ci potrebbe essere, ecco costano molto di più, e appunto è un mercato anche questo, no? Che secondo me il mercato dei domini NFT è destinato a crescere. Comunque io tutto questo per dirvi che c'è l'offerta del Cyber Monday, che adesso ho perso ovviamente, che dura giusto fino a domani, che è oggi Cyber Monday, e c'è il 2x1, quindi acquistando un dominio se ne ottiene un altro gratuito allo stesso prezzo, chiaramente, non è che se acquistate un dominio fuffa poi vi regalano quello da 50.000 dollari premium, ma più o meno deve essere lo stesso il costo. E infatti io ne ho approfittato assolutamente oggi per acquistare i miei, che così nessuno me li scuoterà mai più. Io vi do la scillata del mio referral link, perché c'è addirittura su Unstoppable Domains il referral link, e quindi ve lo pupate pure stavolta. Poi procediamo con Astroport. Astroport è un, sarà il DEX di Terra, quindi è super hypato. Vi ricordo che arriverà a breve il lock drop il 6 di dicembre prossimo, quindi bisogna avere pronta la liquidità da migrare poi lì sopra. Ne avevamo già parlato l'ultima volta, avevamo detto che ci sono più fasi di questo lock drop, ci sarà la possibilità di dare liquidità quindi a Terra Swap, migrare il token LP su Astroport e in sostanza da lì si inizierà a ottenere l'airdrop di Astro. È un token super hypato, quindi io parteciperò, perché è molto interessante come cosa. E vedete, è semplice, cioè bisogna prendere, avere liquidità libera, darla su Terra Swap, prendere l'LP di Terra Swap, portarlo su Astroport e si farma esattamente così. E questa è una fase che si chiama lock drop. Questi saranno i pool interessati, quindi segnateveli assolutamente, Luna UST, Anko UST, Bluna Luna, molto interessante questo perché è senza impermanent loss, con esposizione diretta a Luna e ha comunque una bella fetta di token. l'allocazione maggiore è data alla coppia Luna UST. Peccato perché io non sono un grandissimo fan delle coppie con le stable per via dell'impermanent loss proprio, però insomma vediamo, sono curioso di vedere poi quanta liquidità andrà a finire effettivamente sui vari pool perché l'allocazione la sappiamo, la liquidità no, quindi la ricompensa, l'APY in toccanastro dipenderà poi da entrambi i valori. E questa sarà la prima fase e vi avevo avvisato in anticipo perché se avete in staking Luna sapete che ci sono i 20-21 giorni di unbonding da aspettare e quindi ne avevamo parlato per tempo. Adesso purtroppo è tardi per fare l'unbonding, però bisogna tenersi pronti a farmare come dei pazzi perché secondo me sarà molto molto interessante. Bene, ha rivelato tutti i pool, quindi qua è tutto quello che vi volevo dire. Poi invece questo rumor, che non ho ancora capito quanto c'è di rumor e quanto invece c'è di già fatto, sembra che stia arrivando meme e che stia arrivando quindi abracadabra anche su Solana tramite Ren. Connubio molto interessante, ammetto di non aver seguito poi gli sviluppi effettivi, quindi se c'è ufficialità, se c'è già qualcosa oppure no. Io so che la DAP non c'è ancora su Solana, però è interessante come dire riflettere sull'estensione folle che questa DAP ha. Nonostante l'altro giorno vi ho fatto un post su Twitter, fare ovviamente ironico su Spell, ma non è che voglio buttarci cacca su Spell, cioè è una delle cose più spettacolari che sia mai stata costruita nel mondo DeFi. L'albero di Natale era soltanto per riderci sopra, anche perché quell'albero di Natale lì è dal listing di FTX in poi, se ci fate caso. Non è che è tutta la storia del prezzo di Spell. Il prezzo di Spell in realtà, eccolo il nostro albero di Natale, tanti auguri, il prezzo di Spell nel passato era tipo così. Ha fatto qualcosa come 100 per da qua a qua, no? Ed era questa la ragione per cui io sono bullish, ma non bullish, di più su tutto l'ecosistema Spell abracadabra e quant'altro, ma il prezzo è steso, cioè non ci sono santi che tengano quando il prezzo è steso. Bisogna fare attenzione, il mercato punisce l'estensione, che sia Spell, che sia Bitcoin, che sia Luna, che sia qualsiasi cripto, ok? Lo abbiamo imparato. Non si comprano le cripto estese, non si specula sulle cripto estese cercando la posizione di breve e medio termine, se no ci si addossa un rischio clamorosamente alto. Detto questo, fatto tutta questa premessa per dire che se si estende anche su Solana, caspita, è veramente interessante proprio come piattaforma long term anche. Voglio vedere stabilizzarsi un attimino il prezzo, voglio arrivare a una price discovery più sensata su Spell, prima di ragionare un eventuale investimento a lungo termine. Questo giusto per tirare le somme. Poi, dunque, 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 cos'altro abbiamo? Rondao. Ne parliamo? Cosa dite? Direi che è il caso di parlarne. Dunque, Rondao oggi ha ufficializzato il lancio. Il lancio dovrebbe avvenire oggi, 29-11, ma in realtà ho rifresciato prima e non l'ho ancora visto. Rondao è un fork di Olympus DAO, quindi alto rischio sempre, siamo su quella categoria lì, tendente al gambling per quanto mi riguarda, dove io ho messo il mio cipino prelevato da Wonderland. Ve l'avevo parlato l'ultima volta, no? Cipino da Wonderland, l'ho portato in parte su Rondao, sempre nella mia fetta gambling del portafoglio. Io sono molto conservativo, lo sapete questo. Io non mi butto con capitali alti su piattaforme esotiche come queste, su piattaforme ad alto rischio, ma però non voglio precludermi anche queste tipologie di operatività dove di fatto c'è una simmetria rischio-rendimento, no? C'è un possibile rendimento molto interessante a fronte di un rischio che si riesce a capire. Il rischio c'è ed è alto e va controllato quindi con un capitale contenuto da allocare a questa fetta, a questa operatività. Ma se si riesce appunto a contenere il rischio a un qualcosa di tollerabile, di trascurabile, dall'altra parte c'è un possibile rendimento molto alto. E con un attimo di studio, di approfondimento, insomma ho visto che questo fork di fatto parla molto con Olympus, vogliono detenere la liquidità di Ohm, hanno comunque una gamificazione, hanno un qualcosa in più rispetto ai soliti come Snow Dog che era abbastanza insulso, no? Come Fork e simili. Quindi, come dire, io lo sto seguendo con interesse. Il cipino ce l'ho messo, vediamo, adesso magari scamma il giorno 1, doveva lanciare oggi, domani scamma, sarebbe il colmo, ma farebbe comunque parte del gioco, non escludo il rischio di perdita totale. Fatto sta che dovrebbe lanciare oggi, quantomeno così è scritto nel loro annuncio, e spiega un po' anche la roadmap, che è una roadmap molto interessante, perché al lancio, vabbè, ci sono le funzionalità di base, quindi la possibilità di acquistare i primi bond per depositare liquidità, di mettere in stake e quant'altro. Poi arrivano altri bond, stable, stable, e ecco, GOM, questi qua sono quelli per cui stanno conversando con Olympus. Poi arriva la roadmap, che è un po' la loro feature di punta, se vogliamo chiamarla così. In sostanza è una mappa simirisico, penso, non lo so, un gioco, io mi immagino una roba del genere, non so neanche cosa immaginarmi di preciso, e ci sono delle campagne, in sostanza, dove si può competere con degli obiettivi da ottenere, che può essere stake di almeno tot per tot tempo e altre cose che si inventeranno, e con gli obiettivi e vincendo queste campagne si possono ottenere degli NFT che vanno a potenziarci in qualche modo sul protocollo, come questo elmo che dà il più 5% di voting power. Vedete qua, ad esempio, c'era l'obiettivo, è un esempio, non so se esisterà davvero oppure no, bonding di 5k during campaign one, così, per chi vuole un po' di potenza nella governance, e magari qualcuno busta l'APY e così via. A proposito di APY, che già vi sento borbottare sotto voce, dire, ma qua when APY, allora qua il target, l'avevo letto stamattina, dunque puntano più o meno come i buoni fruttiferi postali, quindi il loro target è all'incirca il 100.000% di APY con il 100% di token in staking, cosa che ovviamente non accadrà perché non è tecnicamente possibile, sarà più bassa la percentuale, quindi l'APY sarà ancora più alto. Questa era un po' la ragione per cui avevo cercato di fare la giocata d'anticipo, nel senso fino a poco fa, adesso non capisco se ho sbagliato chain, qua non mi carica solar beam, sono su moon river, dovrebbe essere giusto, ma ogni tanto mi si bugga. Fino a poco fa, anzi forse già, cioè tuttora adesso, ci dovrebbe essere ancora a Rome, che è la versione alpha con cui poi si può fare il claim da qui, no? Dovrebbe arrivare qua la voce claim con la possibilità di convertire gli a Rome in Rome, ma ecco ok, forse ci siamo, vediamo come siamo messi lato pricing, se abbiamo qualche altra flutuola, era molto volatile in questi giorni, eravamo entrati, ok, 1.600, sì, quando l'ultima volta che ne avevamo parlato era più o meno a 900.000 e ha avuto un pump con l'annuncio del lancio, adesso, ed era quello no il motivo per cui io ve l'ho fatto vedere da subito, addossandomi la possibilità ho detto, lo dico non lo dico, lo dico non lo dico, sapete che quando ci sono queste cose ad alto rischio io sono un po' reticente a dirle perché non vorrei che poi uno fai i pin, poi magari va male perché c'è la possibilità e salta fuori, eh ma l'avevi detto tu, l'avevi consigliato tu, mi raccomando ragazzi, io lo sottolineo sempre che non dovete mai prenderli come consigli di una cosa da fare, io vi mostro semplicemente quello che scopro, con totale trasparenza, non ho nessun tipo di partnership, affiliazione, non esiste neanche il referral link in questo caso, non è sponsorizzato né nulla, ve lo dico perché lo trovi interessante e lo trovo giusto condividerlo con voi, cioè così a scopo informativo, poi uno dice no questa è follia, io ne sto fuori, oppure ma sì proviamoci, buttiamoci sto cippino, questo è un po' il senso con cui vi provo a condividere le giocate ad alto rischio, vi prego di fare sempre le cose con testa, quindi ragionateci e poi valutate se può essere interessante oppure no, io ripeto il ragionamento che ho fatto è stato rischio contenuto, il nostro bel cippino, andiamo a prendere prima del lancio a rom, lo accumuliamo magari in 5 o 6 ingressi per avere come totalità il cippino, poi lo mettiamo a farmare con i suoi APY folli che avrà all'inizio, il rischio magari scam al giorno 1, io perdo tutto, però lo reputo un rischio contenuto di scam al giorno 1 perlomeno e quindi il possibile reward secondo me, secondo la mia modestissima opinione che magari è errata, è sicuramente maggiore del rischio sempre che si vada a contenere, ok? Non è una cosa da amplificare perché già di per sé è amplificata e quindi io ve la condivido, tutto lì, mi raccomando fate sempre i bravi, non fate i PIN e a tal proposito ho preso, adesso voglio vedere quando mi arriva, ho preso un altro quadretto da mettere qua dietro come memorandum, ma non vi spoilerò nulla finché non arriva. Poi, 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 l'ultima cosa ecco che vi volevo dire, ho fatto un throwback oggi perché, beh niente, poi quando vi terrò aggiornati comunque su Ronda o su come va, su quando lancia, se scamma, se non scamma, cosa combina, eccetera. L'ultima cosa, ho fatto un throwback, vi dicevo, su Bitpanda perché mi ricordavo che avevo un account ancora e avevo, ci avevo sopra qualcosa, allora lo sono andato a vedere e ho detto, mamma mia, quante roba hanno aggiunto! E allora ho detto, ma riportiamolo all'attenzione perché so che molti di voi sono alla ricerca di exchange con cui fa, su cui fare bonifici, su cui operare tranquillamente, in maniera regolamentata e quant'altro, soprattutto da quando Binance ha rimosso i bonifici SEPA, insomma, è una domanda che mi capita spesso. Allora, io sinceramente mi sento di presentarvi Bitpanda, che è un exchange, uno, europeo, due, regolamentato al 100% secondo le normative europee, per l'appunto avendo sede in Europa, è obbligato e lo fa, terza cosa, ha ricevuto degli investimenti molto spinti e tra l'altro, ho visto, avevo visto e condiviso con voi un po' di tempo fa, che punta anche a lanciare i derivati sulle cripto in maniera regolamentata in Europa, cosa veramente da boom, se riesce a farlo, e comunque al di là di tutto c'è la possibilità, è rivolto a un pubblico molto ampio, per questo ve lo presento. Ci sono i cripto indici che secondo me sono la top figata di Bitpanda, cioè sono degli indici, per l'appunto 5, 10 e 25 top cripto per capitalizzazione e liquidità, già auto ribilanciate, auto soppesate e quant'altro, su cui ci si può esporre TAC in maniera completamente del tipo acquista, lo tieni lì e lui si auto ribilancia ogni mese. Si può anche fare i PAC, cioè l'acquisto ricorrente, nel quale si può includere anche questi indici, e poi tra l'altro ci sono anche le azioni, ma ce ne sono una quantità industriale di azioni, di mercati mondiali, e poi ci sono anche gli ETF sull'azionario, cioè gli indici, principali indici mondiali azionari, e si possono acquistare anche in maniera frazionata, quindi una frazione di azione, in sostanza, come fosse Robinhood, anche con un euro, un euro di azione, ed è regolamentato, ok? Non sono stock token strani, sono regolamentati, è, ripeto, un exchange europeo, ed è in quanto tale regolamentato. Ci sono anche i metalli, quindi di fatto per chi vuole investire in vari asset class su un'unica piattaforma, secondo me è molto comodo. E indovinate che cos'altro ho riesumato per voi, avete capito bene? Il nostro fantastico referral link, chiaramente, quindi, no, scherzi a parte, ve lo condivido, ma ve lo condivido perché potrebbe interessarvi, viste le domande che mi avete fatto inerenti proprio a un exchange che ha queste caratteristiche. Io ve lo lascio qui, ve lo lascio qua sotto, e se vi va di darci un'occhiata, approfondirlo, guardatelo pure. Ci avevo fatto un video un po' di tempo fa, e se vi interessa magari rinnovare quel video con le nuove features, eccetera, lo possiamo tranquillamente fare. Ora passo la parola a voi, togliamo quest'albero di Natale e andiamo a vedere il nostro Bitcoin come spondo. Non si sa mai che ci voglia deliziare con il suo pump in diretto, io intanto... Ah, io intanto vado di acqua ghiacciata, nel dubbio, e vediamo un po' le vostre domandozze. Allora, conosci piattaforme simili a Wonderland su VSC? No, assolutamente no, per adesso. Per adesso no, sicuramente esisteranno, ma io non le conosco. Non le conosco, attenzione a tutti questi fork dei fork, perché il rischio scam è elevatissimo, quindi non fiondatevi dentro alla cieca, fate un minimo di due diligence. Ciao Luke, ci potresti far vedere tutti i passaggi da fare per spostare il capitale da Wonderland a Romdau? Ecco, questa è una domanda da chi vuole fare APIN senza sapere bene quello che sta facendo. È su Moonriver, quindi ci vuole un bridge che vi porta su Moonriver e poi bisogna, a seconda di quello che si vuole fare, andare ad acquistare gli asset e fare il bond su Romdau, oppure acquistare Rom e metterlo in staking quando si potrà. E potremmo vederlo magari prossimamente quando sarà attivo, magari ci dedichiamo anche un video, dai, perché no? Vediamo come va, se non mi scamma la prima settimana magari lo andiamo ad approfondire, vediamo. Però adesso non me la sento ancora di farci un video perché è troppo in una fase di rischio folle. Poi, 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 vediamo. Buonasera, possibile recuperare un wallet Metamask colpito da phishing? Mi hanno tolto un centinaio di dollari ma l'NFT è salvo. Il problema è che appena verso due soldi il bot li fa sparire subito. Allora, amici, io qua invoco il vostro aiuto. A me non viene in mente niente. Se conoscete un metodo per... Immaginatevi appunto un wallet fischiato, quindi col seed rubato, immagino, contenente un NFT ma appena uno cerca di metterci per pagare il gas per spostare l'NFT viene prosciugato. Se qualcuno di voi ha un'idea vi prego di condividerla col nostro amico e magari gli diamo una mano. A me non viene in mente nulla, davvero. Non mi viene in mente nulla lì per lì. Cosa ne pensi di Moonriver? Moonriver molto bene, nel senso è una parachain di Kusama, Moonriver, e quindi, che dire, è una delle principali, tra l'altro, quindi utilizzata per gli smart contract, per la portabilità EVM, tutti quei discorsi lì, sicuramente ha un futuro. L'analisi del... Dov'è? L'analisi del grafico. Andiamo a vedere. Mobr. Mover Bitcoin. È un po' alla spell, ma perché poi non c'è molto storico, sai? Bisognerebbe aspettare un attimino per andare a analizzare meglio il grafico. Su Ethereum si può fare qualcosa, sulle altre meno. È purtroppo un po' un casino. Cosa ne pensi di Cava? Grazie. Ma non l'ho mai approfondito più di tanto. Non mi fa impazzire come piattaforma. Cioè, non ci ho mai fatto nulla, di fatto. È un pelo limitata, secondo me. Cosa ne pensi di Rabbit Hole? È quella gamificata, aspettate. Com'è che era? Rabbit Hole.gg. Questa qua. Era una figata, se è questa. Questo sì, ve lo... Ok. Questo ve lo condivido, perché è divertente, però l'ultima volta che l'ho guardato era solo su Ethereum. Vediamo. In sostanza, è un giochino, è una cosa gamificata per farvi imparare la DeFi. Allora, vediamo. dove ci sono delle missioni, delle quest proprio, che al momento non ce ne sono, purtroppo, e che vengono messe fuori dai vari protocolli DeFi. E in sostanza, queste quest sono tipo utilizza, fai tot transazioni, fai questa cosa, fai quell'altra cosa. Le quest ti danno punti esperienza con cui acquisisci skill e con queste skill puoi fare delle quest selettive e alcune quest ti danno in premio degli NFT, dei token e cose del genere. E così, carina come idea. Però purtroppo non vedo moltissima roba. Insomma, quest ce ne sono poche. Vanno un attimino seguiti. Vanno seguiti su Twitter, dove ci sono gli aggiornamenti quando ci sono nuove quest. Però è carino. È una bella idea, secondo me. Perché così è... Senza spesa ti fa interagire con i protocolli e interagire con i protocolli è uno dei modi migliori per imparare ad utilizzarli. Poi, cosa ne pensi di Ripple? Hai cambiato idea o la consideri una shitcoin? Mai cambiato idea su Ripple. Mi dispiace. Assolutamente disgustato da Ripple. Non ha senso di esistere proprio. Non è... No. Per me è un no grossissimo. Poi... Allora, aspettate che qua ci sono troppe domande. Devo andare giù da qui, perché se no me le perdo. Hai comprato una navicella di Star Atlas? No, perché i prezzi secondo me erano parecchio alti. E credo che lo farei se ci fosse un bel bear market. Lì sì, però... Purtroppo adesso gli NFT sono... Cioè, li reputo molto sovrapprezzati. Mi sembrano molto spinti come prezzi. Quindi ci sto abbastanza lontano, in generale. Poi, facciamo la gilda su Star Atlas. Dai, fate passare un bel bear market dove faccio incetta di NFT di quelli validi e poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Allora, potresti per piacere spiegare perché quando si fa il claim dei reward su Bybit non compaiono sul margine per fare trading sui futures. Ma in realtà dovresti vederli nel profilo. Sotto c'è proprio una sezione, no? A parte che c'è la sezione per riscattarli dove ci sono i cuponi e poi te li vedi a parte. È un saldo di bonus, alla fine. Quando arriva il nuovo sito? Ragazzi, molto presto, molto presto. State sul pezzo perché vi piacerà e vi dico un segreto, no? Non so se dirvelo o no. Beh, ve lo dico in parte un segreto, più segreto dell'NFT di Crypto.com e guardate anche quando uscirà il sito il nostro sito osservate bene tutto perché potrebbe esserci qualcosa di nascosto di molto valore. Quindi, occhi puntati. Poi, è un buon timing per entrare su Luna? Dunque, andiamo a vedere Luna. Luna è bello carico, eh? Bello carico, Luna BTC, ma è all'interno di un range ed è vicino al range high. Quindi io sinceramente adesso non entrerei. Per una posizione speculativa ci stava volendo qua sugli 8500, sul retest che c'è già stato. altrimenti per una posizione più accumulativa c'è da vedere se, come affrontiamo adesso il range high, se lo rompiamo o se ci rimbalziamo contro. Se ci rimbalziamo contro c'è la nostra parte inferiore del range che può essere valida per accumulare con invalidazione, rottura, ribasso. Se si parla invece di investimento, frega niente dei grafici, sapete bene che l'approccio è ben diverso per l'investimento, per l'appunto. Cioè, sul lungo termine, mediare e quant'altro. Perché Polkadot non sfonda? Ma cosa vuol dire? Cosa significa? Lasciatelo accumulare, lasciatelo lateralizzare. Non è messo benissimissimo Polkadot effettivamente perché ha fatto questo lower high perché se prima era così cioè tuttora il trend volendo è rialzista però ha fatto questo lower high che poteva evitare, poteva risparmiarselo. Beh, sta di fatto che adesso in lateralità, in accumulazione ma non è che bisogna sempre pretendere che una cripto faccia boom per due, per tre, per quattro. Cioè, se si punta sul lungo periodo bisognerebbe essere più contenti di vedere una price action come questa perché bisogna ragionare da accumulatori non da volere il pump subito. Cioè, che approccio è? Un approccio che non ha senso quello di voler vedere il pump. Cioè, davvero non riesco a capacitarmelo perché se uno è trader va a cercare il setup ma anche lì tendenzialmente non cerca il pump. Se uno è investitore neanche dovrebbe cercare il pump anzi, se uno accumula per da qui a cinque anni, dieci anni io sarei più contento se ritracciassimo a lungo piuttosto che continuare a pompare, no? Perché così vado ad avere un prezzo di carico più basso mediamente. Il pump ti dà una soddisfazione effimera. Sì, se vuoi fare take profit subito dici oh, pompa, take profit mi è andata di culo bene, ho chiuso la posizione ma non lo so non ci sta come ragionamento. E lo stesso su Cardano che ho visto l'altra domanda che mi avete fatto su Cardano che anche lui adesso è in preda alla forza di gravità ha perso un altro supporto importante e io personalmente non lo toccherai neanche per sbaglio in una situazione del genere. Sta subendo lo scotto dell'hype perché Cardano ha vissuto di hype fino al 12 di settembre smart contract, smart contract tutti presi bene il futuro a Cardano top 3 in capitalizzazione senza senso dopo un per quello che è stato guardate se non è parabolico questo andamento e adesso se ne paga lo scotto con un ritracciamento lento e probabilmente duraturo ma aspetto un andamento di questo tipo da Cardano in tutta sincerità poi dunque cosa ne pensi di Clover Finance se non erro ero un'altra aspirante paraceni di Polkadot vero? fammi ceccare sempre sugli smart contract sempre se non ricordo male vediamo cross chain multi chain multi chain dap e vm ok dot kusama cross chain è interessante è interessante tra l'altro se non erro è una delle fammi controllare delle più quotate no? tra le aspiranti parachain vediamo aste su questo sito è pesantissimo lo caricherà domani no eccolo qua vedete numero 5 numero 5 beh ci sono stati c'è stato praticamente la come dire il totale esubero da parte di Moonbeam e Akala Moonbeam è il fratellone di Moonriver per l'appunto e Akala e quindi le altre se la son vista dura contro a loro due però vedete che c'è Clover Parallel che è un liquid staking se non ricordo male Astar che cos'è che è Astar scalabilità ah Plasma interessante Layer 2 Scaling Solution interessante anche questo però forse tra i vari preferisco Clover e Parallel personalmente vediamo vedremo con le prossime aste come andrà a finire però come vedete sono tra i più quotati ecco quindi vediamo ora che i big sono fuori dai piedi quanti dot verranno allocati sulle aste successive poi allora può aver senso dare i token dei maggiori exchange ma ragazzi secondo me sì perché perché gli exchange sono le aziende più grandi cioè quelli quotati quelli insomma più affermati sono le aziende più grandi del settore ora come ora il binance l'ftx bitpanda per citarne un altro sono comunque insomma dei big di fatto quindi se riescono ad avere una tokenomics intelligente per il loro token quindi dar degli incentivi concreti e l'azienda cresce che a suo interesse farlo e tutti i numeri per farlo ci sono perché è un mercato fortemente crescente allora anche il prezzo del token segue i token ad esempio vabbè io sono di fatto esposto e lo sapete perché ve lo condivido con massima trasparenza BNB ed FTT e sono sempre andati benone nel lungo termine io non guardo la speculazione li guardo il lungo termine c'è anche Wabi token c'è il discorso di best c'è di bitpanda che in realtà non l'ho mai esaminato e considerato però se adesso fatemi vedere per curiosità il suo andamento ma magari salta fuori che è anche interessante best eccolo vediamo come è andato nel tempo ha avuto un picco nel 2021 ad aprile di quest'anno poi è ritracciato e adesso è qua che sta lateralizzando intorno al dollaro beh sul lungo a parte sto picco che non so come mai se c'è stata una notizia o qualcosa il trend è di lenta crescita che non so cioè il trend tipico degli exchange token perché se guardate anche scusate ce l'ho qua FTT FTT dollaro sul lungo vedete ha i suoi picchi ritracciamento picco ritracciamento a parte la botta parabolica proprio inizio 2021 il trend però è piacevole no? perché si è stato qua esponenziale parabolico ma poi ha subito il ritracciamento e quindi sul lungo vedete che non è più così parabolico e a me non dispiace sono quegli andamenti che mi piacciono BNB secondo me si oddio è un pelino più aggressivo vediamolo sul logaritmico BNB molto più aggressivo BNB veramente arrogante come andamento mamma mia pazzesco un dollaro qua se ci ripenso mamma mia eh sì BNB è stato un attimino più forte come pump ma perché aspettate volevo tornare sul lineare perché ha avuto il pump della BSC a febbraio di quest'anno poi ha avuto il ritracciamento ha subito vedete anche lui e adesso è ritornato a giocare un po' con i massimi che quindi come trend generale non è affatto male Wobi HT USD prima volta che lo esaminiamo Wobi è Wobi ha patito molto il ban della Cina secondo me vedete nell'ultimo è un po' in down trend però macroscopicamente vedete che è abbastanza se si guarda il quadro generale è abbastanza ben messo quindi ripeto ad esempio Wobi token adesso speculativamente non ci entrerai mai perché ripeto sul breve è in down trend però se uno ha un'ottica di lungo termine potrebbe non essere neanche una brutta idea se crede i nuovi chiaramente perché il presupposto deve essere questo dipendono molto dall'andamento dell'exchange stesso della sua crescita conosci le Igo di Cedify Fund guarda io quelle robe lì di solito le evito abbastanza le Igo Ido Ifo perché ci sono launchpad ovunque ormai veramente un porcile di launchpad e quelli che seguo sono quelli di Bybit di Binance insomma i classici che so che comunque fanno un minimo di selezione tutti quei launchpad che nascono a destra e a sinistra ci sono veramente cose folli folli Wagmi su Harmony è la versione folle di Olympus Dao oppure quella assolutamente sì molto rischio molto rischio niente da dire allora mamma mia troppe domande troppe domande conosci Drip Network no non mi dice niente Drip Network chi è che è Drip.community Binance Smart Chain Binance Smart Chain cos'è sta roba cos'è sta roba non mi piace facciamo così primo impatto negativissimo 10% tax on buys via van via fuori 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 basta conosci tranches sì questo è figo invece sulla BSC tranches molto molto valido no non tranche finance tranches proprio eccolo molto molto interessante me lo sto studiando in maniera approfondita e ve lo ve lo presenterò quando l'ho capito bene ma lo reputo molto interessante questo ci sono è ispirato agli scacchi come si capisce è su BSC ed è una delle poche piattaforme su BSC interessanti no scherzi a parte non c'è solo cacca su BSC però questo è veramente interessante innovativo come concetto ogni pedina ha il suo cioè ogni pezzo non pedina è sbagliato negli scacchi ha il suo perché e si combinano tra loro insomma è complicato ma interessante ne parleremo anche perché ci sono alcuni APY molto validi comunque a rischio contenuto quindi si può far strategie molto interessanti assolutamente ma se uno non sa utilizzare la DeFi come può ottenere una rendita se uno non sa utilizzare la DeFi mentre se la studia chiaramente può appoggiarsi alla Cefai la Cefai sapete ci sono quelle piattaforme classiche che io vi condivido abbastanza spesso perché io stesso le utilizzo alla fine diversificare ha senso anche se si sa utilizzare la DeFi DeFi e Cefai hanno rischi diversi e quindi in ottica di diversificazione io trovo che soprattutto se uno ha un capitale un po' più grande ha senso ripeto utilizzarle entrambe come Cefai secondo me tra le più semplici e a maggior come si può definire a miglior reputazione lato regolamentazione lato trasparenza sede team e tutto quanto di solito tra tutte forse BlockFi è quella che mi piace di più perché si è americana parla con i regulator sapete che adesso attive molte conversazioni con i regulator hanno fatto la loro carta purtroppo solo negli Stati Uniti rendimenti interessanti mi pare che sia 9% aspettate che lo vado a recuperare 9% sulle stable dovrebbe essere è assolutamente ottimo e inoltre c'è un prelievo gratuito al mese c'è insomma ci sono dietro investitori importanti ci sono dei nomi che comunque danno sicurezza volevo andarvi a trovare le hour rates dove caspita che si sposta ogni volta eccolo qua allora abbiamo 4,5% su bitcoin fino a 0.10 poi scende un po' mentre sulle stable ecco 9% fino a 40.000 usdc e 9,5% su usdt quindi si può anche splittare magari un po' di usdt e un po' di usdc se si ha 79.000 ad esempio che non è affatto male ecco con il livello di sicurezza che da BlockFi perché ripeto quella è la cosa più importante più dell'avere l'1% in più di APY che tanto cambia poco è importante avere una piattaforma di cui ci si può fidare e già che ci siamo scillatina in arrivo c'è anche la promo che è sempre attiva con il mio link se utilizzate questo link e fate il primo deposito avete un bonus fino a 250 dollari dopo 30 giorni di detenzione in base a quanto depositate e vi condivido ovviamente il link perché lo so che me lo state chiedendo a gran voce quindi io ve lo scillo immediatamente e basta però sì io lo utilizzo le continuo a utilizzare le varie cefai anche se sono un fan della DeFi sinceramente faccio un po' da una parte un po' dall'altra male male non è male non è hai visto il proposal su uniswap porterà unisupolygon guarda figata se succede non ho visto ancora che punto è la votazione però avevo visto che era stata proposta l'avevo visto dal profilo di aspettate che andiamo su twitter di sassal0x mi pare mi pare che sia proprio lui tac un massimalista di etere un che seguo assiduamente dove 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 mi ricordo che era ecco l'altra notizia jack dorsey che se ne va non è più CEO di twitter notizia di ambivalenza non so se è positiva o negativa perché portava avere una personalità del genere in twitter poteva veramente fare tanto per la miss adoption però sono sicuro che si dedicherà a progetti sicuramente legati alle cripto eccolo qua uniswap v3 su polygon vediamo se com'è la votazione se è già stata iniziata cosa si dice cosa non si dice yes tutti yes not bad not bad è bello c'è tanta roba perché uniswap v3 anche senza liquidity mining senza droppare i token uni paga bene e magari su polygon c'è anche qualche liquidity mining in matic chi lo sa chi lo sa chi lo sa che figata però avere uniswap su polygon sarebbe wow credo che andrei a valutarne l'utilizzo e poi arriverà popsicle arriverà tutto tutto quel corredo di dap basate su uniswap v3 comunque allora andiamo avanti vvs finance oltre ad essere speculativo quanto potrà salire il prezzo personalissima opinione io il token vvs non lo holderei neanche con il wallet di un altro personalissima opinione perché droppa troppo cioè droppa troppa roba troppi token ipy altissimi diluizione molto alta e forte inflazione quindi a me non piace non piace affatto non piace affatto e basta questo questo è un po' il mio punto di vista per quanto io sia un utilizzatore di vvs ma preferisco usarlo con bifi con bifi ad esempio un pool che a me piace assai ve lo condivido anche aspettate che vado su kronos 6 kronos 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 eccolo qua è il pool vbtc cro ve lo anticipo già comunque che 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 è qua cro btc 08% giornadiero cro btc che comunque si volatilità ma molto meno di cro usd sono due coin che potrebbe essere intelligente holdare ma adesso soprattutto io lo faccio per le ipy non per altro però se qualcuno è bullish su cro sul lungo termine ecco l'ho dimenticato nei token degli exchange chiedoveni a cripto.com perché comunque si sta dimostrando assolutamente forte a cro btc è un pool ideale per chi vuole holdare ecco non so più dov'è l'acqua perché qua c'è la bottiglia finita e quindi sono disorientato e quindi niente questo è tra l'altro zero commissioni su deposito prelievo not bad allora torniamo a noi per le ultime domandotte cosa ne pensi di metal swap allora guarda metal swap partendo dal presupposto che io ho massima stima per tiziano quindi gli auguro il meglio per questo suo progetto ho visto che ha iniziato alla grande lancio migliore non ci potrebbe essere perché se non erro ha lanciato a 0,2 correggetemi se sbaglio adesso dovrebbe essere a 0,6 l'ultima volta che l'ho visto e tiene bene il prezzo cioè è poco speculativo lanciando lo suo ethereum si è mosso bene e tra l'altro se non sbaglio di nuovo aspettate che andiamo a vedere mi pare che abbia lanciato lo staking in questi giorni eccolo qua ah si è sullo suo ethereum l'unico contro sono le gasfi quindi abbiamo le solite paranoie da ethereum ma eccolo allora ci sono tre pool con lock di 30 giorni 90 giorni e 180 giorni con APY chiaramente crescente e anche 360 giorni con APY crescente quello da 360 in realtà forse è già saturo perché l'APY è più basso ho sbaglio eh si è più basso è più basso quindi niente in base a quanto si crede nel progetto chiaramente se uno crede a lungo termine con degli APY del genere è quasi d'obbligo utilizzarlo dipende da quanto ci si crede comunque non è assolutamente una shitcoin se me lo chiede se volete arrivare lì perché c'è uno use case interessante cioè c'è dietro un qualcosa di molto studiato e magari un giorno facciamo due chiacchiere proprio con Tiziano riguardo a questo perché vabbè comunque niente questa è la mia risposta poi 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 cosa ne pensi di loopring loopring interessante perché è un un layer 2 ZK rollups su Ethereum e c'era mica il discorso di GameStop la partnership con GameStop che aveva fatto pompare in una maniera folle ultimamente sì eccolo folle folle troppo esteso ecco questo è il suo unico difetto attuale l'estensione sapete che a me fa allontanare da da una coin adesso sta si sta un attimino strutturando vediamo un po' come si posiziona però in me questa 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 rampa rialzista non mi piace granché non mi piace granché poi 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 Luca Remarkable to the moon mannaggia a voi che me lo oscillate da sempre da quando c'erano le uova lo condividevamo e io io lo condivido con voi perché il nostro vice in holder quando dice una delle sue perle ve le condivido insomma di solito sono delle scillate con dietro del gran significato cosa ne pensi di Auto Cake adesso allora bah Cake purtroppo è un po' lì che sta cadendo anche lui in preda alla gravità deve finire sta Price Discovery ribassista e trovare un attimino di supporto sarebbe bello vederlo stabilizzarsi e ripartire perché affinché c'è tutto questo trend che scende basta non è che mi attiri più di tanto sì bello l'Auto Cake dà sempre il suo 70% però adesso c'è veramente di meglio nella DeFi che holdare una coin che continua a droppare guardate Cro BTC il pool Cro VTC che dà il triplo praticamente allora ma il corso di DeFi per principianti ragazzi ho appena finito oggi di girare la prima puntata che ve la carico giovedì alle 19 inizia inizia è ufficiale ragazzi è ufficiale assolutamente ufficiale VET e Cardano Pump non direi dov'è il Pump dove l'hai visto non scherziamo su queste cose che ne pensi di Nexus Protocol lo stai utilizzando molto interessante non detengo il token ma è molto interessante e molto utile soprattutto molto molto utile bene 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 poi 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 allora per ovviare al problema Sweeper Script questo è utile per il nostro amico che aveva bisogno forse di recuperare il suo NFT bisogna firmare le transazioni offline così da settare il nonce offline e minare manualmente la transazione senza usare il transaction pool pubblico spero tu legga scusa lo spam me ha fin di bene allora io me la salvo questa risposta e spero innanzitutto che tu la stia leggendo e altrimenti che purtroppo io poi tecnicamente non so se la so realizzare ma io me la salvo così se se il nostro amico che aveva bisogno appunto avrà ancora bisogno potremo gliela posso condividere anche privatamente per l'appunto e dunque 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 tac me la son salvata allora amici miei io a sto punto andrei a dare un'occhiatina ai graficozzi cosa ne dite graficozzi ok guardavo se avevo aperto una chat privata con lui per mandargli direttamente questo aiuto ma no purtroppo no vabbè però me la son salvata quindi la recuperiamo se ce n'ha bisogno partendo da bitcoin abbiamo detto che abbiamo detto che la resistenza da vincere è 60.500 se noi la vinciamo ritorniamo bullish su tutti i time frame e andiamo di nuovo a cercare il long intanto che non la superiamo in particolare se non ci riprendiamo anche i 59.000 che è il top di quest'ultima candela rossa quindi riassorbire l'ultimo dump sarebbe il minimo se ci respinge di nuovo non è un bel segno ma finché ripeto non ci andiamo non andiamo a gravitare qua sopra il long non lo cerco su un setup di questo tipo ma piuttosto continua lo scenario accumulativo solito ormai testa così anche su questo l'invalidazione dell'essere bullish anche più su un time frame ampio rimane la solita lower low se facciamo un lower low qua sotto così non benissimo più scendiamo e più non benissimo perché diventa meno probabile avere un andamento di questo tipo e diventa più probabile avere un andamento di questo tipo quindi con più indecisione dopo da andare a risolvere però vale ripeto questo setup accumulativo perché va a costruire sul medio periodo una posizione finalizzata poi a catturare un eventuale ulteriore legato con invalidazione ben precisa tra l'altro quindi siamo assolutamente sul pezzo andiamo a vedere le altre coin oggi ne abbiamo esaminate parecchie abbiamo fatto una bella panoramica sull'exchange coin che mi è piaciuta abbiamo visto un po' di coin di per sé abbiamo visto cake abbiamo visto insomma un po' più di grafici del solito bene così e guardando invece Ethereum siamo sempre nel solito range adesso stiamo andando a muoverci verso 0078 quindi la zona di top di questo giga range e vediamo come l'affrontiamo solito discorso vediamo se la dominance ci viene in aiuto dunque la dominance si è un attimino appiattita è laterale addirezionale quindi c'è da capire che cosa vuol fare macroscopicamente è in range di nuovo quindi questa è la sua struttura adesso eravamo nella leg down del range quindi mi aspettavo di vederla andare un attimino più giù fino almeno ai 40 a testare di nuovi 40 come ha fatto in passato ma se dovesse già ripartire perché si indebolisce potrebbe essere insomma una situazione non piacevolissima per le alt stiamo un po' a vedere poi l'una l'abbiamo già vista abbiamo visto un bel po' di cose Matic no cos'era questa Tezos Tezos che non la guardo dal 52 più o meno grafico completamente strano è anomalo la Total Market Cap guardate che qua ha reagito bene su un supporto invece questo grafico dice molto perché ci fa vedere che i 2.4 vi ricordate l'abbiamo visto anche l'ultima volta hanno tenuto hanno tenuto botta per bene e quindi questo è un buon segno perché stiamo trovando equilibrio in questa zona e quindi se riusciamo a consolidare diventa più probabile l'accumulazione e la continuazione rialzista rispetto a una una prosecuzione invece a ribasso quindi molto bene per la situazione generale ecco io rimango ancora bullish c'è un attimino da svegliarsi un po' da avere quel piglio che Bitcoin ha avuto fino a poco fa ritrovarlo e potremmo veramente partire bene amici miei io con questo direi che ci possiamo anche salutare non so cosa ne dite ma una comparsata ballando con le stelle quando spero mai ragazzi c'è il giorno che mi vedete lì davvero spegnete la televisione perché vuol dire che mi sono bananarizzato anch'io curiosità tu usi qualche app tipo delta per il tracking degli investimenti magari io uso un excel incomprensibile incomprensibile perché purtroppo tra una cosa e l'altra DeFi trading una cosa non riesco a metterci tutto Jack Dorsey si è dimesso da Twitter ho letto ho letto prima ho letto prima e purtroppo non lo so da un lato magari ha più tempo per dedicarsi ad altro adesso devo leggere bene la dichiarazione che ha fatto non so se l'avete vista voi ma mi piaceva quello che stava facendo in Twitter cioè l'integrazione con le tips in Bitcoin era molto crypto oriented mi piaceva forse a un bene non lo so vediamo vediamo sono curioso di vedere quello che è lo sviluppo del suo del suo lavoro cioè dove vuole andare a parare se vuole dedicarsi a Square se vuole fare qualcos'altro ti prego parlaci un po' di Rome eh ragazzi ne ho parlato prima non è ancora lanciato secondo me a meno che non l'abbiano lanciato in questo istante vediamo vediamo un po' coming soon no niente mi sa che domattina magari se ne parla se non ci scamma non ci scammare è Rome altrimenti incorrect chain torniamo su Moonriver ultimo sguardo eh poi ci salutiamo ok coming soon niente vediamo se su Twitter ci sono novità Rome vediamo 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 no niente niente ancora 29 per il full launch vediamo se i commenti lo stanno flamando di brutto tutti festeggiano presi bene un po' di scam un po' di shitcoin eh boh non lo so non lo so non lo so non lo so vediamo vedremo vedremo io vi terrò assolutamente aggiornati perché il mio cippino è lì amici di nuovo vi ringrazio per avermi seguito vi voglio belli carichi giovedì mi raccomando giovedì blocfi ciao defi sono fuso a quest'ora non connetto più primo prima puntata del nostro corso gratuito di defi per principianti non perdetevelo per nessuna ragione al mondo noi ci vediamo ancora in live mercoledì però quindi avremo occasione di aggiornarci e di chiacchierare e spero il mio rug pull ed pork ti ha messo fame sì molta fame e vediamo che speriamo che nel frattempo romdao abbia lanciato e non diventi un altro rug down amici di nuovo buona serata e alla prossima grazie a tutti